ciao vengo ancora un po' lo blu perfetto ciao vediamo se sono fortunato ciao 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 stanna ciao 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 c'è un po' così c'è un po' così a 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 ho messo malissimo a 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 Grazie a tutti. 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 Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Okay. Vai. Allora... Allora... ... 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